Fornovo Taro, 28 luglio 2022, la fideiussione della discarica di Monte Ardone. Alessandro Savi, in qualità di consigliere comunale, ha presentato un'interrogazione in consiglio comunale firmata anche dalle consigliere Anna Maria Berselli e Lucia Cardi, in cui chiede alla sindaca Michela Zanetti di riferire al consiglio le informazioni in suo possesso riguardo al motivo per cui nel 2018 la precedente amministrazione ha stralciato dalla convenzione che il comune aveva con il gestore della discarica Palladio, la fideiussione che garantiva il comune in caso di mancato pagamento, non solo dei ristori ambientali, ma anche in caso di fallimento. Oggi quella fideiussione, che possiamo chiamare garanzia, spiega preoccupato l'assessore Savi, non c'è più perché è stata tolta nel 2018, pari a un valore superiore di 700 mila euro, dopo essere stata prevista in convenzione fin dal 2011. Non è un obbligo di legge, precisa l'assessore, c'era e poi è stata tolta. Perché? Ho chiesto già spiegazioni durante un consiglio di settembre 2021, ma dalla minoranza, allora maggioranza, nessuna risposta. Oggi non posso fare altro che chiedere formalmente alla sindaca Zanetti perché almeno se ne discuta in consiglio. Savi, infine, conclude così. Ma le motivazioni devono arrivare da altrove, da chi ha deciso nel 2018. Una domanda che vale oggi più di 700 mila euro perché l'amministrazione comunale è in contenzioso plurimo con il gestore, sottolinea nuovamente Alessandro Savi. Vale più di 700 mila euro in quanto a questa cifra ammontano i ristori ancora non pagati dall'attuale gestore della discarica.